Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questi pantaloncini che in questo caso appunto io li ho fatti azzurri ma potete farli tranquillamente anche rosa da bambina perché non cambia assolutamente nulla, basta cambiare il colore e potete usarli tranquillamente se per bambino che per bambina per fare questi pantaloncini vi serviranno dei ferri del 3 se volete farlo proprio da 0 a 3 mesi se invece volete farlo leggermente più grande già cambiando il tipo di ferri diventa un pochino più grande infatti io ho utilizzato i ferri del 3,5 e poi del 4 quindi se volete leggermente più grande dei 3 mesi già modificando il tipo di ferro vi diventa più grande leggermente più grande chiaramente quindi in questo caso se lo volete fare come me io ho usato i ferri del 3,5 e poi quelli del 4 ho usato un gomitolo e mezzo questo è quello che mi è rimasto diciamo del secondo gomitolo quindi me ne è rimasto tanto della lana che vi ho fatto vedere nel mio video dei miei acquisti lanosi che è veramente molto morbida e sinceramente questa poi non è neanche pelosa quindi rimane proprio molto bella comunque e morbida ripeto è bella anche da lavorare questa lana calcolate che se volete un gomitolo di questa costa 1,60 euro se invece ne prendete 10 viene 1,50 euro se ne prendete 15 anche dell'altro colore vi viene 1,40 euro quindi in questo caso se voi per dire avete solo comprato due gomitoli questo pantaloncino vi sarebbe costato meno di 3,20 euro perché questa vi avanza quindi veramente pochissimo e comunque dovete usare due gomitoli se andate a comprare la fuori calcolate sempre che meno di 5,6 euro non la pagate invece in questo caso meno di 3,20 euro se comprate solo i due gomitoli se invece prendevate già i 10 viene molto meno chiaramente quindi se aveste preso dei gomitoli di questa poi dei gomitoli della dash chiara quasi panna il rosa e l'altro azzurro che costano comunque hanno tutti gli stessi prezzi quindi volendo si potevano anche prendere tutti insieme se prendevate quindi 15 pezzi quindi venivano 1,40 euro calcolate questo pantaloncino con due gomitoli perché anche se vi avanza vi servono comunque due gomitoli con 2,80 euro avevate fatto il pantaloncino però calcolando appunto due gomitoli quindi 2,80 euro due gomitoli non li comprate fuori a meno che andate a prendere l'acrilicaccio e allora proprio quello vi costa anche 1 euro quindi con 2 euro ve la cavereste le misure del pantaloncino le faccio vedere alla fine quindi non me le chiedete sotto prima di vedere magari la seconda parte o la terza parte non so quante parti mi verranno di questo video come ripetevo come ho detto prima vi ripeto potete farlo anche rosa bianco e quindi da farlo anche per bambina si allarga molto quindi anche il pannolone ci sta che dire è veramente semplice da lavorare era un video che mi è stato richiesto e l'ho fatto volentieri e quindi spero vi piaccia e che vi sia utile ciao a tutti ok allora per andare a realizzare questo pantaloncino bisogna mettere su 56 punti allora io vabbè chiaramente sto usando inizialmente feri del 3,5 ma solo per fare il bordo del pantaloncino inizieremo dalla dalla parte alta del pantaloncino per poi andare a fare piano piano le gambine adesso allora come cominciamo a fare il primo ferro allora una volta messi sui 56 punti andiamo a fare innanzitutto il primo punto a vivagno quindi a rovescio dopodiché iniziamo praticamente il primo e il secondo ferro li lavoreremo così faremo due diritti quindi 1 e 1,2 e due rovesci quindi lavoreremo a costa 2,2 chiaramente il primo ferro si farà sempre un po' più fatica perché chiaramente quando si mettono sui punti si fa leggermente più fatica ok però dopo naturalmente scorrerà molto meglio il lavoro e quindi andiamo a fare proprio tutto il ferro a costa 2,2 due diritti due rovesci due diritti due rovesci chiaramente l'ultimo punto andremo a farlo poi a diritto e facciamo così due ferri quindi questo è il primo ferro lo terminiamo poi faremo anche il secondo mi raccomando il secondo ferro lavorate diritto su diritto rovescio su rovescio ok fatti i primi due ferri quindi a costa 2,2 adesso andiamo a fare il terzo ferro in questa maniera allora il terzo ferro sarà un po' particolare semplicemente perché dobbiamo creare dei piccoli fori e poi ci serviranno per mettere o un nastro o un un cordoncino cioè un i-cord o anche fatto semplicemente con delle catenelle e poi magari un giro di maglie basse insomma un qualcosa che serva poi per stringere il pantaloncino in modo che potete stringerlo a vostro piacimento poi il pantaloncino cosa che è molto importante sui bambini allora quindi andiamo a lavorarlo in questa maniera facciamo chiaramente il bivagno poi lavoriamo così lavoriamo un diritto poi due insieme in questo caso andiamo a fare dunque lo facciamo a rovesso perché il punto che ci interessa noi dopo anzi lo facciamo a diritto come si presenta al punto successivo quindi lavoriamo due insieme a diritto perché questo punto rimarrà a diritto poi nel ferro successivo quindi lo facciamo a diritto dopodiché facciamo un gettato quindi da sotto passiamo sopra e ritorniamo in posizione poi ritorniamo in posizione a rovescio perché il prossimo punto è a rovescio ok quindi adesso ripetiamo ancora un diritto poi lavoriamo due insieme a diritto proprio perché ripeto questo punto dovrà rimanere e poi a diritto invece il gettato andrà lavorato per il punto successivo chiaramente adesso abbiamo lavorato quindi due a diritto facciamo un gettato e poi torniamo in posizione di rovescio quindi così e facciamo il rovescio adesso innanzitutto voglio vedere se la telecamera è messa a fuoco bene che non mi sembra affatto ok e poi volevo anche leggermente ecco fare questa cosa così va bene perfetto allora abbiamo fatto quindi il rovescio adesso andiamo a fare un diritto singolo poi lavoriamo due insieme a diritto perché il prossimo sarà a diritto quindi la costa deve rimanere invariata quindi andiamo a prendere il rovescio e il diritto insieme e li lavoriamo a diritto poi da sotto al ferro passo e faccio il gettato però siccome il prossimo punto è a rovescio vado direttamente a portare il mio filo in posizione e lavoro il mio rovescio dopodiché faccio ancora un diritto due insieme a diritto ok e poi faccio il gettato e poi torno in posizione a rovescio per poter lavorare il mio rovescio ancora un diritto due insieme a diritto un gettato e torno in posizione a rovescio e faccio il rovescio quindi ancora un diritto due insieme a diritto faccio il mio gettato e torno in posizione a rovescio perché devo lavorare a rovescio diritto due insieme a diritto faccio il gettato e torno in posizione a rovescio per lavorare a rovescio diritto due insieme a diritto faccio il gettato e torno in posizione di rovescio e lavoro a rovescio un diritto poi lavoro due insieme sempre a diritto faccio il gettato e vado in posizione a rovescio per lavorare a rovescio poi di nuovo un diritto due insieme a diritto faccio il gettato e torno in posizione di rovescio e lavoro a rovescio poi un diritto il 2 insieme a diritto faccio il gettato e torno in posizione a rovescio faccio il rovescio poi lavoro ancora un diritto 2 insieme a diritto faccio il gettato e torno in posizione di rovescio poi lavoro il diritto 2 insieme ancora a diritto poi faccio il gettato e vado in posizione di rovescio lavoro il rovescio e finisco con due diritti e il rovescio ok adesso dal quarto al nono ferro quindi segnatevi intanto che lavorate per non perdervi che magari non vi ricordate più dove siete lavorate a costa 2 e 2 appunto dal quarto adesso dovremmo andare a fare il quarto dal quarto al nono ferro andiamo a lavorare a costa 2 e 2 normale volevo farvi vedere il ferro successivo dove abbiamo fatto anche i gettati perché poi sicuramente poi me lo chiedete quindi io prevengo e ve lo faccio vedere un attimo io ho fatto adesso due rovesci mi trovo un diritto e poi il gettato il gettato lo lavoro normalmente entro proprio così e lo lavoro a diritto poi faccio i miei due rovesci e lavoro diritto e poi il gettato entrando normalmente lo lavoro a diritto non lo lavoro a ritorto perché a me serve che si formano questi forellini dove poi appunto faremo entrare il nostro cordoncino o qualsiasi cosa abbiamo deciso di mettere quindi il gettato lo vado proprio a lavorare normalmente come un diritto normale anche se è largo perché appunto deve formarsi il forellino proprio di passaggio per il nostro cordoncino o appunto quello che abbiamo deciso di mettere per fare tipo da cinturino insomma quindi diciamo ve l'ho soltanto fatto vedere perché poi magari sicuramente qualcuna di voi mi dice ma Monica ma i gettati poi come vanno lavorati vanno lavorati a diritto ritorto no in questo caso no perché mi serve proprio per creare questi forellini e quindi adesso finiamo questo che sarebbe il quarto ferro e lavoriamo fino al nono ferro compreso sempre a costa 2-2 ok sono arrivata al nono ferro adesso siccome mi trovo sul rovescio del lavoro ho deciso siccome io lavorerò questo pantaloncino a maglia rasata voi chiaramente potete decidere di fare il punto che più desiderate ma ricordatevi sempre che quando andate a fare il punto di controllare che il numero di punti che avete sul ferro sia adeguato al punto che andate a fare altrimenti o aggiungete un punto o lo diminuite l'importante è che siano giusti per fare il tipo di punto che andate a fare io andrò a lavorare a maglia rasata in questo caso siccome mi trovo appunto sul ferro di rovescio sul rovescio del lavoro comincerò la maglia rasata a rovescio questo cosa vuol dire che faccio il primo ferro a rovescio invece che farlo a diritto in modo che la mia maglia rasata rimanga rovescio sul rovescio e diritto sul diritto poi un'altra piccola cosa volevo dirvi io sto usando i ferri del 3,5 e ora passerò al 4 però e quindi può essere che il pantaloncino venga leggermente più grande dai 0 ai 3 mesi perché lo schema che io sto diciamo tra virgolette copiando mi diceva di utilizzare dei ferri del 3 solo per tutto il lavoro il ferro del 3 quindi se andate a usare il ferro del 3 sempre sia questo appunto che stiamo facendo sia dopo allora è da 0 a 3 mesi altrimenti ricordatevi che già cambiando il numero di ferri anche su una lana più sottile però cambiando comunque il numero di ferri leggermente il vostro lavoro si ingrandisce ok quindi sicuramente il mio lavoro sarà magari anche 4 mesi ok da 0 a 4 mesi perché chiaramente io sto usando dei ferri più grandi però niente toglie a voi di lavorare con i ferri del 3 come lo schema diceva ok io adesso invece passerò al ferro del 4 e come vi dicevo vado a lavorare il decimo ferro che poi adesso tornerà invece ad essere il primo ferro quindi avete lavorato 9 ferri per il bordo in alto del pantaloncino adesso ricominciamo da capo e li nominiamo primo ferro il primo ferro sarà il nostro appunto andiamo a fare la maglia rasata a rovescio questo vuol dire appunto che andiamo a fare il primo ferro a rovescio ricordatevi questa cosa se la fate anche voi perché chiaramente dovete fare poi un'altra parte uguale a questa che stiamo facendo quindi deve essere uguale ok quindi ricordatevi che il primo ferro o segnatevelo il primo ferro l'avete fatto a rovescio di questi 52 ferri che andremo adesso a lavorare a maglia rasata quindi adesso questo è il primo ferro e vi segnate il primo ferro tutto a rovescio ok dopodiché il secondo ferro andrete a farlo tutto a diritto e così per 52 ferri alternato si adesso stavo lavorando a diritto perché mi distraggo a parlare con voi e quindi secondo ferro andrete a farlo a diritto e andate avanti appunto per 52 ferri a maglia rasata e ancora mi stavo calmando perché parlando mi distraggo e guardo quello che c'è sotto andate a fare appunto a maglia rasata per 52 ferri quindi primo ferro tutto a rovescio secondo ferro tutto a diritto e andando così alternando i due ferri grazie